Grande attesa a Maggiora per la prima tappa del campionato italiano di rallycross in programma come di consueto domani e lunedì. Sono 42 i piloti iscritti all'intero campionato tra i quali il grande Gigi Galli nelle supercar, il campione italiano 2017 Marco Valazza nella super 1600 e il campione italiano Gabriele Zoppetti nei carcross che duellaranno nelle sei prove previste fino a novembre. Come da tradizione il weekend motoristico organizzato da Sport Club Maggiora che da quest'anno è anche promoter del tricolore vedrà la presenza anche dei piloti del campionato italiano-svizzero, il campionato svizzero autocross che regalano sempre grande spettacolo. In totale dunque un centinaio le vetture che si sfideranno alla maggiore off-road arena. Sport Club Maggiora ha pensato anche ai più piccoli, sarà infatti per risposta nei pressi del circuito una kid zona. dove potranno giocare e divertirsi i bambini in totale sicurezza. Saranno inoltre allestiti degli stand gestiti dai genitori della scuola primaria di Maggiora. Tra i piloti più attesi anche il giovane vigezzino Gabriel Di Pietro che sarà in gara nella categoria carcross. Anche quest'anno saremo in forza alla Planet Carcross Italia con il K3 versione 2019. Macchina spiega proprio il vigezzino che si è dimostrata molto performante l'anno scorso. Quindi sono davvero fiducioso in vista dell'inizio del campionato. L'obiettivo è sempre lo stesso ma di certo non sarà facile siccome il livello è sempre più alto e tutti vogliono vincere. Ma io ci proverò perché abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere un buon risultato.